Il missioniere della rivoluzione, italiani, italiane, a di lei molti, a di lei mari, ascoltate, 20 milioni di italiani sono in questo momento raccolti nelle piazze in tutta Italia, 20 milioni, ma ancora solo, ne ho voluto sola, una decisione sola, questa manifestazione vuole significare che l'identità tra il taglio e il fascismo è perfetta, assoluta e inalterabile. Da molti mesi la ruota del destino, questo impulso della nostra camera di distribuzione, va verso la meta. In queste ultime ore il ritmo del trato più veloce è ormai inerestabile. Vincere! Vincere e vinceremo! Siamo forti, siamo grandi e siamo... Cazzutti! Goio!